poi li metto a posto Ciao, io sono Veronica e vi do il benvenuto in questo nuovo video Oggi vi mostro un po' tutti i librini che ho all'interno di questa libreria, quella che vedete alle mie spalle che in realtà non è l'unica libreria che ho in casa, però ci concentriamo su questa perché ce n'è già abbastanza e vi dico subito che tutti i libri che ci sono all'interno non sono soltanto miei perché condivido i miei spazi e quindi anche le mie librerie con mio marito e siamo entrambi lettori forti, quindi i libri non mancano in questa casa Per quanto riguarda la disposizione ho deciso di suddividerli per case editrice e seguire un po' quelli che sono i miei gusti a livello cromatico quindi è una cosa molto personale ovviamente oltretutto la disposizione la cambio spesso perché così a seconda di come mi gira cambio anche perché mi piace molto mettere mano ai miei libri e nulla, io direi che possiamo iniziare perché ce ne sono parecchi inizio a togliere la pianta perché altrimenti come facciamo? Ok, mi sono arrampicata letteralmente sulla libreria vediamo il primo scomparto qua tengo i libri di Newton Compton Editori non mi piacciono un gran che quindi li ho messi tutti dietro sono tutti classici, ora li vediamo c'è i miserabili qua vado veloce perché come vi ho detto non mi piacciono queste edizioni poi c'è Kafka tutti i romanzi, tutte le opere Anna Karenina poi ho Dante delitto e castigo una vita di svelo poi i vicere e Freud, l'interpretazione dei sogni poi li metto a posto ok, nel secondo scaffale c'è un'altra casa editrice che non mi piace particolarmente che sarebbe Crescere Edizioni perché non mi piacciono le traduzioni, sono sincera ho letto infatti fra questi libri dov'è? Le affinità elettive che è questo ma non mi è piaciuto perché ho trovato tantissimi errori all'interno del libro quindi traduzioni veramente bruttine assolutamente non li consiglio questi libri però ne abbiamo diversi anche perché tanto venderli questi non è che ne ricavi molto comunque c'è i fratelli Karamazov se si dice così poi c'è l'idiota poi ancora le affinità elettive come vi ho detto prima qua le notti bianche dall'altro lato c'è anche il morire del sottosuolo ma in realtà ce l'ho anche in un'altra edizione il rosso e il nero di Stendhal il processo di Kafka il cuore di tenebra e c'è anche la lina d'ombra forse sono due sì così per lo Zaratustra di Nice al di là del bene e del male di Nice poi qui ho queste edizioni che erano quelle che uscivano con il Corriere della Sera e ho Prometto e incatenato Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità di Epicuro e la poetica di Aristotele qui invece di Sellerio ho Poeta al comando di Barbero che l'ha letto mio marito io non ho assolutamente idea di come sia e poi ho Caro figlio ragionevoli dubbi io non ho mai letto Caro figlio ma giustamente ce l'ho in libreria ok andiamo allo scaffale successivo che è questo se non cado ok qui abbiamo il diritto al sesso che è un saggio che mi è piaciuto veramente tanto infatti non so se si vede ma mi è piaciuto tanto ve lo consiglio molto se vi interessa questo argomento in particolare che è appunto quello del sesso e tutto quello che è ruota attorno genere e quant'altro poi qua un libro invece di mio marito che sto pensando di finirla qui di Ian Raid non ho idea di cosa sia non l'ho mai letto e non so se mai lo leggerò altro libro di Caro figlio mai letto il passato è una terra straniera non vi posso dire nulla poi qua ho una bellissima edizione del piacere dell'annunzio veramente bella di Rizzoli qui c'è il mio amato Perek in La vita istruzioni per l'uso che non ho mai letto perché è un bel mattone è anche abbastanza complicato da capire quindi per il momento rimane in libreria qua libri di mio marito Cima delle nobile donne di D'Arrigo non lo leggerò mai stessa cosa con Orcinus Orca che non leggerò mai sempre di mio marito qua invece c'è la scuola cattolica di Albinati che mi piacerebbe leggere infatti l'ho comprato per me ma insomma abbastanza spesso quindi continuo a rimandare l'inizio di questa lettura poi c'è un libro che amo tantissimo che è Conversazione in Sicilia di Vittorini tra l'altro abbiamo diverse edizioni di questo libro perché è piaciuto a tutti molto e questa però in particolare è l'edizione che più ci è piaciuta ed è la la Rizzoli la Burra Rizzoli che però ahimè non si trova più poi c'è Dacia Maraini questo non l'ho mai letto penso che lo farò però sempre di Maraini c'è Bagheria questo credo che lo loggerò a breve e come vi dicevo un'altra versione un'altra edizione di Conversazione in Sicilia ok andiamo avanti qua ci sono invece i Fazzi Editore ovviamente il peso delle parole che mi è piaciuto tantissimo inutile dirlo li vedete un po' larghini perché manca Stoner che sta leggendo mio marito qua poi ho i libri di Tove di Tlebsen quindi Infanzia Infanzia poi qui ho Gioventù poi ho La figlia femmina qua Dipendenza non so perché erano meschiati cioè erano messi male ho una famiglia moderna che vi ho fatto vedere nello scorso book haul Divorzi anche questo faceva parte dello scorso book haul quindi leggerò di sicuro e qua invece ho qualche Sellerio questo La guardia il poeta l'investigatore l'avevo preso a Natale a mio marito e gli è piaciuto anche se non era il suo genere io non credo che lo leggerò mai poi ho Il mio amatissimo Una vita come tante che mi è piaciuto tanto 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 e penso che un giorno lo rileggerò perché mi è piaciuto da morire poi ho Prima di Noi di Giorgio Fontana questo l'ho comprato e non vedo l'ora di leggerlo anche se pure in questo caso la mole mi spaventa parecchio sono sincera qua Le transizioni di Statovci un libro che mi è piaciuto davvero tanto ed è stato un autore che ho scoperto l'altro anno tant'è che poi ho comprato anche gli invisibili però questo non l'ho ancora letto questo fa parte di un mio scorso book haul e anche questo non l'ho ancora letto però mi sembra interessante dietro in realtà ho una seconda fila ma di libri veramente molto vecchi e io ometterei il tour di questi per questo video allora qui abbiamo Ungaretti vita ad un uomo quindi tutte le poesie in realtà questo è Mondadori qui c'è Bonpiani ma perché nello scomparto Mondadori non ci sta più quindi questo l'abbiamo visto qua c'è Furore di Steinbeck che leggerò sicuramente mio marito ama l'autore quindi ci sono moltissimi libri suoi quindi lo leggerò sicuramente qua c'è La peste di Camus che non ho ancora letto e non so se lo farò perché sì lo penso solo io ma non mi è piaciuto l'autore perché avevo letto dove è finito vabbè lo vediamo dopo siamo Indifferenti sempre di Moravia non l'ho ancora letto qua Conversazione in Sicilia come vi ho detto abbiamo diverse edizioni questa è anche molto bella poi qua c'è Echo che non ho mai letto Uomini e topi di John Steinbeck che l'ho letto e mi è piaciuto poi La noia di Moravia non l'ho letto perché non ho letto nessun libro di Moravia qui Steinbeck qui Steinbeck c'è Aldio Sconosciuto qua c'è quel fantastico giovedì sempre di Steinbeck sempre Steinbeck La Corriera Stravagante L'inverno del nostro scontento La Lunga Vallata Piander della Tortiglia passando a questo scaffale qua li abbiamo messi qui sopra perché non ci stavano qui abbiamo Biografia del 68 che non ho ancora letto mi sembra molto interessante parla appunto è un saggio che parla del 68 e mi interessa molto quindi lo leggero sicuramente poi c'è Il disprezzo di Moravia Agostino sempre di Moravia l'attenzione poi Diceria dell'untore di Bufalino che ho intenzione di leggere il mio marito l'ha già letto e mi è piaciuto molto poi c'è La disubbedienza Moravia come ho detto non l'ho letto qui andiamo avanti di nuovo con Steinbeck abbiamo La perla che l'ho letto e mi è piaciuto molto qua c'è La battaglia non l'ho letto Viaggio con Charlie lo voglio leggere non l'ho letto lo leggerò La ciociara di Moravia poi qui c'è Fuvio Tomizza Materada non so neanche cosa sia ovviamente di mio marito Eglio Vittorini il semplione che strizza l'occhio a Fregiou l'ho letto e mi è piaciuto molto poi c'è Le donne di Messina di Vittorini non l'ho ancora letto Aldamerini La pazza della porta accanto poi qui abbiamo Il cimitero di Praga di Eco mai letto Dire quasi la stessa cosa di Eco l'ho letto in realtà l'ho iniziato non l'ho finito perché sono una serie di scritti messi insieme e non amo molto queste cose preferisco i saggi più coesi rispetto a questo poi qua abbiamo Il saggio di Harari quindi Omo Deus Sapiens Animali e Dei che io ahimè grave mancanza non ho ancora letto ma sicuramente lo farò ah giusto c'è anche 21 lezioni per il XXIesimo secolo poi c'è Un uomo senza patria di Bonnegat non so come si dica La caduta di Camus e poi Lo straniero che non mi è piaciuto affatto assolutamente non è il libro che fa per me passiamo allo scomparto successivo qua non si vedono ma c'è Pirandello sei personaggi in cerca di autore qui invece ci sono tutte le poesi di Montale un bel tomone e qua c'è l'Ulisse di Joyce andando qui invece troviamo i libri di Calvino che qua ne abbiamo molti Gli Amori Difficili che non ho mai letto in realtà Calvino non ho mai letto niente cioè l'ho letto quando ero piccolina ma giustamente non ci ho capito niente perché è un autore che passa sempre come autore per ragazzi di libri per ragazzi ma non è così perché o ero stupida io ma io non ci ho capito niente quando ero piccolina quindi qua c'è Gli Amori Difficili il Castello dei Destini Incrociati Lezioni Americane Siamo la Notte d'Inverno un Viaggiatore Visconti di Mezzato e poi qui non riesco neanche a leggerlo c'è Il Sentiero dei Niti di Ragno Barone Rampante Cavaliere Inesistente e poi arriviamo a Dino Buzzati che non vedo l'ora di leggere e lo farò a breve sicuramente c'è Un Amore poi Il Deserto dei Tartari poi qui ho di Herman S Il Gioco delle Perle di Vetro poi c'è Orwell Grande Mancanza Mia 1984 che quest'anno spero di leggere Pirandello I Vecchi e Giovani Buzzati di nuovo Il Segreto del Bosco Vecchio poi c'è Il Resto di Niente poi c'è La Campana di Vetro di Silvia Platt che mi è piaciuto tantissimo e consiglio sempre tantissimo ho un libro di Salman Rushdie che non ho ancora letto e sono molto curiosa di scoprire l'autore e poi qui abbiamo Devi Gang passiamo a questo scaffale dove invece abbiamo tutti libri da consultazione abbiamo ci sono questi libri qua molto carini di Gribaudo Edizioni e abbiamo quello della filosofia quello dell'arte psicologia femminismo politica storia li adoro perché spiegano appunto questi macro argomenti in modo molto completo e anche molto facile da seguire quindi li consiglio assolutamente soprattutto se si è appassionati o appassionate di uno di questi temi o comunque ce ne sono di molti altri io al momento ho soltanto questi poi o bastava chiedere il fumetto che vi ho già fatto vedere in un video qua ho alcuni libri sulla fotografia e quant'altro c'è un po' di tutto c'è William Mayer qui ho anche questa bellissima infografica della seconda guerra mondiale questo è un libro che ci è stato dato quando ci siamo sposati qua invece un libro di fotografia sempre che non vi faccio vedere perché è pesantissimo e come sono messa in questo momento non mi sarebbe possibile farlo ok ora passiamo agli Adelphi qua ci sono quelli piccolini vi dico che cosa ho il ballo ovviamente già letto e lo consiglio tantissimo poi c'è Camminare di Thomas Bernard bellissimo questo libro lo amo poi l'arte del romanzo di Kundera che ho letto in realtà soltanto delle parti però le parti che ho letto mi sono piaciute molto ovviamente un saggio qua classico dei classici in realtà non l'ho mai letto aiuto qui i miei premi di Bernard questo l'ha letto mio marito è infatti un autore che ama molto mio marito e io ho scoperto anche e penso che leggerò altri sui libri la consolazione di Sgalambro che è un saggio filosofico poi qua sempre per reparto filosofia ho due libri di Schopenhauer l'arte di conoscere se stessi e l'arte di farsi rispettare dice c'è umano troppo umano e l'anticristo qua sotto ho vicino al cuore selvaggio l'ho comprato non molto tempo fa tra l'altro l'ho comprato usato e questa edizione è fallata perché non so se lo vedete ma non è centrato neanche qua neanche qua lo è qua abbiamo la cognizione del dolore di Gadda qua invece Kundera l'insostenibile leggerezza dell'essere io ho praticamente tutti i suoi libri perché da adolescente mi ero innamorata dei suoi libri quindi li ho presi tutti credo comunque quelli che ho li ho letti tutti poi qua invece il libro di poesie di questa poetessa di cui non azzardo neanche a pronunciare il cognome il nome qua sempre Kundera la festa degli insignificanza qui abbiamo Bernard abbiamo invece di nuovo Bernard qui di Sax c'è l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello poi Shasha il giorno della civetta che a me personalmente non è piaciuto l'ho trovato molto noioso nonostante sia un libro molto piccolo molto breve anche se mi rendo conto dell'importanza che ha avuto questo libro poi Lolita di Nabokov che ovviamente Kundera mi amato l'ignoranza poi La vita è altrove Lo scherzo tra l'altro La vita altrove era il mio libro preferito di Kundera però l'ho letto dieci anni fa quindi non saprei dire ora se la penso allo stesso modo Nemirovski 2 ancora mai letto Il balzer degli adi anche questo mi era piaciuto da morire spostandoci di qua in realtà come potete vedere qua sopra ho anche queste edizioni bellissime quelle che escono in edicola perché non non ci stanno quindi per il momento sono qua piccole donne crescono Madame Bovary Orgoli e pregiudizio Jane Eyre e Persuasione ma torniamo a Adelphi abbiamo Il soccombente di Thomas Bernard Kundera La lentezza ovviamente mi è ripresciuto tantissimo l'ho detto l'ho amato come autore Il filo del rasoio poi qui invece abbiamo I diari di Platt ecco qui sono molto curiosa perché ho letto soltanto La campana di vetro e voglio recuperarlo questo La pelle di Malaparte qui abbiamo un libro che invece è di mio marito e non penso che lo leggero mai che è Cime Abissali lunghissimo insomma non è proprio il tipo di libro che generalmente vado a cercarmi poi Il dono di Nabokov qua invece Carrer La settimana bianca non ho mai letto niente dell'autore qua c'è Lolita Teran invece qui Autobiografia di mia madre che l'ho letto questo mese e mi ha piacevolmente stupita questa autrice infatti voglio leggere assolutamente altro di suo qua abbiamo Kundera il libro del riso dell'oblio qui invece abbiamo Il vino della solitudine di Nemirovski Tremorivo mai letto qua c'è Rot La cripta dei cappuccini Felici Felici l'ho comprato poco tempo fa anche in questo scaffale ho dei libri che non c'entrano nulla perché ho di nuovo altri due libri dell'edizione quella che esce in libreria con RBA quindi ho Cime Tempestose e Emma qui invece c'è Ricordi di Parigi un libro bellissimo abbiamo Estinzione di Bernard sempre di Malaparte invece abbiamo Caput Parerga e Paralipomena di Schopenhauer qui c'è questo Tomone di Vita e Destino ovviamente l'avrete capito che non è proprio il mio genere infatti è di mio marito questo libro Thomas Bernard Perturbamento Finzioni Amori Ridicoli di Kundera anche questo libro che mi era piaciuto molto all'epoca quando lo lessi qua Follia di McGret poi L'identità di Kundera poi di nuovo Carrère con Il Regno questo scaffale bianco su nero questo libro qua in realtà l'abbiamo trovato in un book crossing mi sembrava interessante l'abbiamo trovato da poco quindi nessuno di due l'ha ancora letto poi qui abbiamo I Baffi di Carrère che questo è un libro di Carrère che vorrei assolutamente leggere qua c'è Quattordici 1914 di Echenot qua c'è L'Avversario di nuovo di Carrère di Bernard abbiamo la Fornace Antichi Maestri di Bernard questo l'avevo iniziato a leggere ma non era il momento giusto quindi l'ho momentaneamente accantonato ma lo riprenderò sicuramente molto presto Vite che non sono la mia di Carrère come se niente fosse di Letizia Muratori un'autrice italiana che non conoscevo e durante gli sconti a Delphi ho deciso di andarmi proprio a spulciare il catalogo per cercare dei libri che non avevo mai visto in giro comunque per scoprire nuove autrici autori meno conosciuti e ho trovato appunto come se niente fosse questo libro che leggerò in realtà penso nelle prossime settimane Romanzo Russo mai letto Geni Lamatta me ne ho anche parlato mi è piaciuto tantissimo lo consiglio tra l'altro è anche nella lista dei cento classici di nuova generazione Il freddo di Thomas Bernard che è uno dei libri autobiografici dell'autore ne ha scritti diversi Limonov di Carrère poi Uomini e cani di Oma di Monopoli ma invece di Matteucci Costellazione Familiare abbiamo Il lampadario non ho mai letto questa autrice vi ho già fatto vedere che avevo anche un altro suo libro quello fallato Carrère Yoga o anche il suvite francese perché mi era piaciuto un sacco il ballo quindi ne ho comprati diversi ma ovviamente ancora non li ho letti la caduta nel tempo di Cioran poi qua c'è il fuoco palido di Nabokov qua abbiamo Gadda anche i doni della vita di Nemirovski tra l'altro è mangiato dalla coniglia aiuto Kundera i testamenti traditi Cioran di nuovo sommario di decomposizione e Stalingrado ok siamo arrivati agli ultimi scaffali e qua abbiamo alcuni NN editore qua sono un po' più mischiati i botti di sottomissione di Megan Nolan qua poi c'è Che razza di libro di Jason Mott io non l'ho ancora letto l'ho regalato l'avevo regalato a mio marito lui l'ha letto e gli è piaciuto poi nell'edizione cult di Mondadori molto bella c'è Il mondo nuovo io ho Quaderno proibito che questo lo voglio leggere da un po' c'è una libreria da parecchio anche lui La femminilità è una trappola di The Beauvoir che in realtà sono un insieme di scritti poi andiamo alla mia amata Nier no Guarda le luci amore mio bellissimo l'evento il posto poi una donna l'altra figlia che a me è piaciuto da impazzire l'altra figlia tra l'altro se non l'avevo ancora detto poi Gli anni La donna gelata qui poi Memoria di ragazza La vergogna ecco la vergogna non ho mai parlato un granché però anche questo è un libro molto interessante dell'autrice invece c'è La luce che pioveva di Zeppegno che non mi era piaciuto infatti ci ho fatto anche l'ho inserito anche nel video dei libri flop poi Melanconia di classe invece questo devo ancora leggerlo e c'è Tiffany McDaniel con l'estate che scelse ogni cosa un libro che mi è piaciuto molto particolare qua c'è anche l'eclisse di Lake and Cottle c'è un altro libro che voglio leggere ed è mare aperto allora in questo scaffale ci sono alcuni libri garzanti e altri invece di questa casa editrice Baldini Castoldi dalai editore quindi è un po' vario anche qua sempre per questioni di spazio alla fine poi li metto anche insieme comunque qua c'è l'eccezione fa la regola qua invece c'è questo libro di David Graeber che vorrei veramente tanto leggere ed è un saggio che parla appunto di lavoro e è un tema che mi piace moltissimo infatti lo sto approfondendo sempre di più poi c'è Una vita violenta di Pasolini qua Ragazzi di vita sempre di Pasolini Le cenere di Gramsci sempre di Pasolini qua invece c'è Volevo solo averti accanto che è un romanzo che ho letto anche qua dieci anni fa e mi era piaciuto tantissimo magari adesso questo libro qua non mi piace più affatto invece c'è Pirandello Il fumattia Pascal I malavoglia e Mastro Don Gesualdo di Verga qua T con Zero di Calvino che quest'anno è sempre Garzanti questo poi altri Garzanti c'è Dickens Tempi difficili poi c'è la Locandiera di Goldoni qua gente in Aspromonte e poi c'è l'umorismo di Pirandello e qua l'ultimo l'ultimo e le confessioni di Agostino passiamo a Feltinelli quindi il reparto dell'economica di Feltinelli qua c'è Di guerra e di noi di Marcello Domini qui sotto abbiamo una donna di Sibilla Leramo che mi è piaciuto tantissimo e consiglierei all'infinito nonostante appunto abbia una scrittura un po' ostica perché è un italiano un po' antico Saviano che io non ho ancora letto qua c'è Psicomagia altro libro che non ho ancora letto questo l'ho comprato in un impulso di un giorno così proprio matto il libro delle case questo l'ha preso mio marito qua invece abbiamo i bambini di Asperger che è un saggio storico che parla appunto della nascita di questo termine di come è stato utilizzato appunto per quanto riguarda la seconda guerra mondiale e i lager nazisti qui c'è Mattatoio numero 5 non l'ho mai letto Sirene di Laura Pugno che di cui vi ho già parlato mi è piaciuto anche se non è privo di difetti questo romanzo distopico il passaggio di Sibilla Leramo mi è piaciuto molto e l'unica cosa è che è ancora più lirico rispetto a una donna quindi può essere impegnativo il conoscentissimo il buio oltre la siepe che non ho letto saggio sulla lucidità di Saramago qua abbiamo anche cecità poi l'educazione che voglio assolutamente leggere le intermitenze della morte di Saramago sempre Saramago il Vangelo secondo Gesù Cristo poi le assaggiatrici il mio amato libro Manifesto Cyborg che ovviamente non consiglio a nessun essere vivente sulle regole di Gerardo Colombo è un saggio che appunto parla di regole di leggi norme e quant'altro l'avevo iniziato a leggere poi in realtà l'ho abbandonato saggio donne si diventa un saggio sul femminismo molto ben scritto lo consiglio assolutamente la banalità del male invece non l'ho ancora letto ma recupererò recupererò siamo all'ultimo scaffale qui c'è il dominio maschile di Pierre Bourdieu sostiene Pereira di Tabucchi io non l'ho mai letto ma l'avevo regalato mio marito poi il libro dell'inquietudine di Pessoa Seta di Baricco che Baricco in realtà non piace né a me di mio marito ma ce l'abbiamo qua Dove eravate tutti di Paolo di Paolo qua vabbè c'è Bukowski che a me non piaccia assolutamente ma è lì Donne che amano troppo anche lui non l'ho ancora mai letto Paolo Crepe e Solitudini poi piccolo dizionario delle emozioni di Ivana Castogli a me era piaciuto moltissimo l'ho letto ormai qualche anno fa però molto carino Elena Gianini Belotti dalla parte delle bambine bellissimo lo consiglierò all'infinito anche lui I No che aiutano a crescere La coscienza di Zeno che ho letto e assolutamente consiglio la lettura a chi non l'avesse ancora fatto perché è da leggere è un libro molto bello Lettera al padre di Kafka invece non l'ho ancora mai letto Il grande Gatsby un'altra grande mancanza mia perché non l'ho mai letto un libro di Tolstoi che io non ho letto Poesie di Carducci che a me piacciono molto di Dublino che non ho letto Senilità di Svevo non l'ho letto La città del sole di Campanella l'ho letto ormai parecchi anni fa però mi era piaciuto molto Le poesie di Nice La terra desolata mai letto e Al faro di Virginia Woolf che in realtà l'ho comprato da poco e non l'ho ancora letto Ho preso i libri che stavano dietro ve li faccio vedere qua ho Le dimensioni del vuoto sempre di Crepe come vi ho detto appunto non mi fa impazzire averlo poi Per la pace perpetua di Kant Parla dell'epoca fanno impazzire le questioni della mitologia greca quindi non lo so Poi Ho stesso Intimità un libro di crescita personale di autoaiuto che mi era piaciuto molto e sempre degli stessi autori anche Fiducia e sfiducia Novecento di Baricco che a me dispiace ma Baricco non fa proprio per me Malinconia di Eugenio Borgna anche Le emozioni ferite che mi era piaciuto proprio perché anche all'interno c'erano un sacco di poesie citate quindi era anche bello da leggere Ultimo libro L'amico ritrovato bellissimo romanzo breve e consigliatissimo a chiunque Ok siamo finalmente giunti e giunte alla fine di questo video non credevo che sarebbe stato possibile ma ce l'abbiamo fatta spero che vi sia piaciuto ovviamente vi ringrazio per aver guardato questo video fino a qua e noi ci vediamo nel prossimo